Ciao, sono Marco Massa, sono il titolare dello studio Massa e Partners, siamo uno studio associato di dottori commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e ci occupiamo di finanza agevolata. Abbiamo deciso di investire sull'isola, cercando di portare la nostra professionalità qui, al servizio delle imprese o di chi ne ha necessità. Ci sono varie opportunità, annoveriamo tra queste la misura di Resto al Sud, che prevede un contributo per le nuove imprese nascenti con soggetti fino a un massimo di 46 anni, di un contributo a fondo perduto per il 35% dell'investimento e un contributo a tasso zero per il 65%. Come si compone naturalmente il contributo? Per ogni soggetto che abbia i requisiti essenziali può beneficiare fino a un massimo di 50.000 Euro, quindi 4 persone insieme possiamo beneficiare per un investimento fino a un massimo di 200.000 Euro con le percentuali che abbiamo detto prima. Questo contributo prevede l'investimento in tutti i settori tranne che per il commercio e quindi qui sull'isola sarebbe proprio indicato perché andiamo nel settore artigianale, manifatturiero, turistico, ristorazione, tutto quello che riguarda lo sviluppo imprenditoriale. Nello specifico per Anacapri vi faccio presente invece che c'è aperto il Gallo, la misura 6.2.1 che concede di avere 40.000 Euro per un investimento fatto in una nuova attività imprenditoriale non agricola a fondo perduto. Abbiamo poi sempre una misura abbastanza aperta che è imprese a tasso zero, quindi chiunque voglia cominciare un'impresa non abbia paura perché i fondi ci sono, non si pagano gli interessi, quindi a tasso zero, lo Stato ci è vicino, ma soprattutto noi professionisti sapremo affiancarvi in questa vostra avventura naturalmente. Ci sono altre forme di finanza agevolata che potrei enunciarvi in questo momento, ma preferirei parlarne da vicino perché naturalmente la finanza agevolata è un vestito sartoriale, veste ad hoc per gli imprenditori del settore specifico nel quale andiamo a parlare. Vi aspetto, spero di incontrarvi e di avervi presto in un colloquio da vicino. Masse Partners, professionisti al tuo fianco. Grazie a tutti.